Intro Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo tredicesimo episodio dell'Elimination Nuzlocke a Pokémon Rosso Fuoco Signori miei, nello scorso episodio guidati dal divino, dall'incredibile, dal sublime merda Siamo riusciti a sconfiggere Sabrina per poi catturare, grazie alla sua benedizione, il mitico semaforo Quindi ora avremo la triade, inoltre nello scorso episodio c'è stata la votazione che questa volta ci ha portato via Elix sostituito da John Frog Che non ho fatto in tempo ad allenare, è ancora a livello 33, lo vedete in sidebar, però ce lo abbiamo, è lì E nulla, mentre andremo verso l'isola Cannella vi spiegherò un po' di cose Innanzitutto facciamo la cattura Koffing Ancora, questo Pokémon mi perseguita, ce l'ho in tutte, l'ho avuto in tutte le challenge In tutte le challenge Cioè è ovunque questo, una cosa che è ovunque, come la chiamo una cosa che è ovunque? Ehm, non lo so Ehm Ovunque, una cosa che c'è, basilica Basilica, perché il basilico c'è ovunque però è femmine, quindi basilica che poi sarebbe tipo un edificio degli antichi romani ma fa niente Allora, mentre, dicevo, prima di trovare questo Pokémon bellissimo Mentre andiamo verso l'isola Cannella vi spiego un attimino un po' di cose Innanzitutto Come sto messo Innanzitutto ci tenevo a scusarmi perché in questi giorni sono usciti meno video Questo per il semplice fatto che sono stato impegnato con un diciottesimo Quindi ho dovuto fare gli striscioni, cazzi e mazzi E poi ho dovuto, cioè ho dovuto, sono andato in vacanza Per chi non lo sapesse e non mi seguisse sui social, cosa che sarebbe veramente grave Quindi dovreste farlo Sì, sono stato in vacanza per due giorni Non ho fatto in tempo a preparare abbastanza video E quindi per quattro giorni sono usciti video alternati Sì, dovrebbero essere quattro giorni, quindi un giorno sì, un giorno no Tra l'altro questo video qua lo sto registrando veramente tardi Dovrei riuscire a farlo uscire per lunedì, cioè domani Però sarà corto perché altrimenti non ce la faccio Sono molto stretto con i tempi Anche perché ragazzi sta riniziando la scuola purtroppo Io non avendo fatto nulla per tutte le vacanze Oh, ciao Lady Bird Non avendo fatto nulla per tutte le vacanze ragazzi Adesso mi tocca fare tutto gli ultimi giorni E quindi ho meno tempo Purtroppo Detto ciò, boh, io conto di caricarli comunque i video Di caricarli con costanza Tra l'altro dovrei andare in live Ho finito sto video, ma dettagli Nel frattempo stiamo facendo stragi di pescatori Che sostengono di avere dei Magikarp che non hanno Ottimo E nulla, questo è un altro dei motivi per il quale Non sono riuscito ad allenare John Frog Fino ad un livello abbastanza degno E ce l'abbiamo in squadra in questo momento Col condivido esperienza Perché non mi fido Comunque ragazzi fidatevi che è un grandissimo Pokémon È davvero fortissimo E sì, come osi avvenenare le divinità Sei proprio un birbante Un monello Mi sono attaccato da solo Meno male che merda ciondola Cioè mi sono attaccato da solo Sono un genio del male E nulla, quindi John Frog non l'ho allenato Totalmente Non l'ho allenato al massimo della sua potenza Perché ragazzi essendo che è fortissimo Ci mette di più ad allenarsi Quante boiate che sparo E comunque per il prossimo episodio Dovrei portarlo ad un livello abbastanza degno Cosa faremo quest'oggi finalmente? Faremo questo percorso qua Arriveremo all'isola Cannella Ed esploreremo la villa Pokémon Se ci sarà Perché me l'hai rubato a quello di prima Ma per piacere Ma come fa? Dicevo Se dovessimo avere abbastanza tempo Faremo anche la palestra Ma non vi assicuro nulla ragazzi Perché ripeto Questo video dovrebbe essere più corto In quanto ho davvero tanto da fare Nel caso riuscissi a farlo uscire per lunedì Vi chiedo un bel mi piace ragazzi Perché Anche solo per l'impegno Perché probabilmente starò sveglio la notte a editare E non è proprio una delle cose più belle da fare Perché sapete Poi la mattina ti svegli Dovresti andare a scuola Però sei uno zombie morto E non ce la fai Nel frattempo Ok Questo lunaton qua sarà un problema Perché non so obiettivamente come Buttarlo giù Forse un magifuoco Oh Scottato Ma quanto brucia la religione di questo nuovo dio ragazzi Mamma mia Cioè che pot No vabbè Vabbè Parasect Parlo di zombie E ho guardato un po' chi viene fuori Non ci volevo credere Guarda Extra rapido su di lui E dovrebbe No E vabbè Ti faccio il sdoppiatore Vai a casa Perfetto Se non è extra rapido E sdoppiatore Nuovo detto del creepy Hashtag Grazie Ah è finito il repellente Proprio mentre stavo cercando di usare surf Interessante E ovviamente Non ne ho un altro di repellente Vero Mannaggia A me Tra l'altro su questo percorso qua La cattura l'ho fatta Evviva Allora Affrontiamo questo pescatore A sto pu Mmm C'è C'è Ma come Cos'hai pescato Ma cos'hai il lamo di Buddha Cioè spiegami Deoxys e Mew Questo Arriva lui No tranquillo No Muori Questo qua si droga Raga Non lo so Cattura Pesca gli alieni E pesca i pokemon Originali Cioè Il pokemon Origine Tipo si Mew Dovrebbe essere chiamato Pokemon origine Oh ma ci stiamo Come si è messo E poi questo arriva Con la pigna The pigna Lo chiamavano sto pokemon Stridio Ecco Ad esempio Ad esempio Ce l'ho nel culo La droga Di che droghe ti fai Le sostanze Passami il numero Del pusher Come fai a avere ste mosse Geloraggio Fuocobomba Giudizio universale Non ce l'hai Oddio Per piacere Che ho anche gente in casa In teoria devo far partire La non sclero challenge È andata benissimo Mi dicono Proprio Vado in tendenza Cioè La droga A parte che Oh merda Li brucia tutti È una cosa allucinante Ma Che Cazzo No Gesù Che cosa Cosa Si fanno Di me Di che Sti 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 pescatori Sti nuotatori C'hanno i pokemon Di gesù Gliela lasciati Quando sei crocifisso Che Siamo a 6 minuti Calma Calma Sto già sclerando troppo Respiriamo E affrontiamo Un nuotatore Dai forza Vediamo un po' Cosa sei in grado di fare Tanto non puoi fare triathlon Nudo Cioè io te lo dico Già da adesso Idropompa Come ho fatto a reggere Sto lady Ma Come ho fatto a reggere Un'idropompa Con la Ma scusate Che difese ha Sto coso C'è la bbc Della juve Gli fa una pippa Che non lo so E' un lady Ba che ti regge Le mosse Così Di solito muoiono Li saluti Fai ciao Lady ba muore E invece no Questo qua era fortissimo Evidentemente Allora curiamoci Al centro pokemon Io andrei anche Ragazzi a fare Una cosa molto rapida Giusto per sfizio Ossia Parlare a sto scienziato Gli molliamo Il fossile Che abbiamo Aspetta Aspetta Cosa Ma cosa Ma perché Forza Antico Non lo so Consigliatemi Nei commenti Un soprannome Per sto coso Perché E' spettacolare L'episodio Si chiamerà Qualcosa Con lui Sicuro Tipo Char Charmander Si è estinto Non me Non me Aspettavo Mai Non me Aspettavo Mai Però è una figata Raga Perché poi c'è Charizard E' anche un Dinosauro Quindi Bellissimo Bellissimo Complimenti Un applauso A randomizzatore Hashtag Randomizzatore Burlone Nei commenti Allora Perfetto Qua ci possiamo fare Una cattura Quindi ce la faremo Vediamo un po' Che ci capita Attenzione Oddio Il pokemon Dal tipo Confuso Eh vabbè Prendiamolo Questo qua In teoria Raga Dovrebbe essere Di tipo Acqua Invece Per qualche strano Arcano Motivo Che io non riesco A capire Di tipo Normale E non ci vuole entrare Vabbè che non ci Non ci terrei neanche Tanto a lui Però vabbè Ormai l'abbiamo preso Azzurri il tipo Normale Però secondo me Un tipo Acqua Lo chiamo Boh Error Error Ci sta 404 Ci sta Error 404 Perché sto pokemon È un errore È un errore Come fai a essere Di tipo Acqua Cioè Non ha senso Sta cosa Vabbè Comunque Repellente Vediamo un po' Di esplorare Sta zona Che io Ricordo Abbastanza bene Però vorrei esplorare Un po' Meglio Perché ci sono Tanti begli Strumentopoli Misteriosi A trovare Queste Queste porte qua Si 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 girano Si aprono Solo Esatto Premendo la testa Di ste cose Cioè che poi Non penso sia la testa Non so perché Ho pensato io la testa Gulpin Uno dei pokemon Più inutili Mai creati Levati E mi scotta Pure Ok Perfetto Ci siamo capiti Pinsir Allora calma Ma andiamo a merda Con magifuoco Che dovrebbe essere Raga perfetto Esattamente Quasi livello 45 Per lui Incredibile Allora Fermi Suocera Che mosse hai Forse ho sbagliato Po' No ok Dai è incrocolpo Pensavo avesse fuoco bomba In realtà Non so perché L'ho pensato Poi ho realizzato subito Dopo che avevo fatto Una boiata Per fortuna Aveva incrocolpo Allora Dovrei avere Delle antiscottature Perché ricordo che Per qualche arcano motivo Ne avevo un fottio Infatti Ok Perfetto Possiamo proseguire Ragazzi Saliamo su queste scale O si sono Ecco Ad esempio Bacca Executor Forma Lola Ma Ma Raga Non lo so Cose 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 Ah no Non antiscottatura Datemi un repellente Vi solleverò al mondo Perfetto Vai Affrontami Questi qua Raga Sono i saccheggiatori Cioè li trovate Solo in questa casa Se non sbaglio E nella palestra Elite Surge Perché Boh evidentemente I saccheggiatori Per non farsi beccare Vanno nell'unica istituzione Che ha un vago senso Di ordine In questo mondo Perché Perché la logica La logica dei pokemon È molto bella In effetti Vuoi morire Allora A parte il fatto Che per insultarti Mi sono tirato Una ditata Nell'occhio Ma a parte Quello Non ci azzardiamo A sopravvivere Ai miei attacchi Strumento Repellente Ho appena preso I repellenti Max Ok Questi libri qua Ragazzi Non li leggo Ma sono molto interessanti Perché Racchiudono Diciamo La storia Della creazione Di Mewtwo Che per chi non lo sapesse È stato creato Proprio in questo laboratorio Cioè Almeno Non è mai stato Credo Ufficializzato Però Il film Diciamo Che Insomma È revitalizzante Max Intanto Il film Di Mewtwo Insomma Quello Quello che conosciamo tutti Come si chiama Mewtwo contro Mew Nelle In una delle prime scene C'è la creazione Di Mewtwo E Pare che sia Appunto Villa pokemon Dell'isola cannella E pare che Il fatto Che questa isola Sia abbandonata Sia dovuto Appunto A diciamo Questo potere Incredibile Di Mewtwo Che ha distrutto Tutto in sostanza Bene Dopo questa spiegazione Che mi è venuta Insolitamente bene Possiamo proseguire Ok perfetto Qua mi ricordo Che mi dovevo Buttare giù Ragazzi Solo che La vera domanda è Dove Perché Ci sono tanti modi Di buttarsi giù Penso che sia tutto uguale Bellsprout Minchia che La potenza di sta gente È veramente assurda Ragazzi Saccheggiatori Proprio hanno rubato I pokemon giusti Medicham Ne ho uno Con una mossa di volante No ovviamente Quindi andrò di Liu Che farò sdoppiatore Arrogantissimo E Medicham E Medicham va giù Perfetto Ah un'altra cosa Mi avete detto Nei commenti Di dividere Il death count Dall'eliminazione Delle votazioni Insomma Cioè sarò sincero Spettate Non lo so Questo mi schiatta Però non vorrei Non vorrei sparare Una cagata Ma forse Tipo attorno Al 37 Questa zona qua Ecco ad esempio Qua abbiamo Una bacca prugna Quello strumento Là in alto Dovrebbe essere In teoria La mt solo Arragge Nei giochi originali E lo strumento Appena prima Invece che non si vedeva Sarà la chiave Della palestra Di lit surge Che poi ovviamente Andremo a visitare Comunque ragazzi Non sarà in questo episodio Perché non abbiamo tempo E lo vedrete nel prossimo Insieme a tutto L'arcipelago Delle isole Cioè tutto quello Che c'è dietro La storia dell'arcipelago Magari in un episodio Un pochino più lungo Che so io 30 minuti Una roba del genere Insomma Tanto mi avete detto Che per voi Non è un problema Anzi vi fa piacere Vedere dei video Più lunghi E io Farò un video Più lungo Per compensare Diciamo la cortezza Di questo video Che sarà sicuramente Più corto Forre 3 Avrei dovuto switchare Aspettate Ma Luke c'è il surf Perché io non lo uso Sono stupido Ecco Schizzo Impara a surf Non è un problema Vai a casa Perfetto Allora In teoria Ora Non ricordo bene Il trick qua Perché c'era Un modo particolare Allora si No dovevo prendere Semplicemente Sta Uh doppio ago Mi ci buco le vene Con sto doppio ago Perfetto Possiamo andare di qua E ottenere La nostra chiave segreta Mentre qui abbiamo Attenzione Terra in pesta Non ho trovato Non ho trovato Un MT decente Per terra In tutto il gioco Ma si può Allora Apriamo sta maledetta Porta Guarda C'è neanche Il tempo Capite Mi viene da Starnutire Mannaggia Agli unicorni Allora No Fermi però Ecco Mi dimenticavo Le funi di fuga Come adesso E quindi nulla ragazzi Siamo arrivati Alla fine dell'isola Ah scusate Alla fine della Villa pokemon Vi ricordo Di dare il soprannome Di decidere Di trovare Insomma Di inventare Un soprannome Per il nostro Charmander Che si è schiuso Dalla Si è schiuso Non si schiude Da un fossile Che è rinato Dal fossile Magari qualcosa Legato Diciamo Al fatto che Un dinosauro All'estinzione Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare Un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Insomma Tutto quello che dovete fare Rispondete alla domanda del giorno Che sarà come al solito Qua sotto è la sidebar E passate i social Che invece saranno In descrizione Vi ricordo che Quest'oggi Non è giorno di votazioni E il link sarà Nel prossimo episodio E noi ci becchiamo In un prossimo Video